Grazie Scusate O mani o papabocca Allora adesso ci organizziamo Bisogna essere organizzati Cioè io continuo a vedere gente, concerti Tutti perfetti e non sono Cioè siamo svizzeri Non possiamo essere disorganizzati e borracciati Allora Tre domande uguali, tre risposte uguali Una leggermente Una domanda leggermente diversa Con la risposta leggermente diversa Già che abbiamo Già che abbiamo la possibilità di avere Il trino La ripartizione Tripartitica La utilizziamo Quindi, prima domanda Vengo anch'io Sinistra, estremo e sinistra E E Ex Popolare Non so Subversivi Centro, estremo, centro Coesione e liberazione Comunione Vengo anch'io No, tu no Destra, estrema destra Con alcuni seggi mancanti Si capisce perché Hanno abandonato l'aula Vengo anch'io No, tu no Attenzione Ultima domanda Ma perché La fucilata Quelli dell'Oggione Sempre male Non lo dico No, si diceva No, l'Oggione è quello in territorio Il territorio è da 100 km Non vedete niente Quindi, ma perché? Perché no? Pronti? Prova per la stampa Per la televisione Pronti? Vengo anch'io Vengo anch'io Eh, sguardo per cento Non, non va bene signore e signore Non siete Non siete Non c'è intensità Centro, estremo, centro Vengo anch'io Natura Visto? Avete voluto perdere le lezioni? Questo è tutto Sorpresa? Si stanno No Se ci si premoncate Qualcuno si sta sedendo Pronti? Dovrebbe essere la solita Vengo anch'io Natura Io l'ho detto E già se lo do Mi raccomando Pronti? Ma perché? Perchè Perchè Perfetto Con musica Con musica Già 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 Perfetto 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 Vengo anch'io Natura Vengo anch'io Perfetto Perfetto Vengo anch'io Vengo anch'io E nascosto un effetto che fa Vengo anch'io Vengo anch'io Vengo anch'io Vengo anch'io Ma perché? Vengo anch'io Ma insomma che provo a vedere tutta la sera che vogliamo Vengo anch'io Vengo anch'io Vengo anch'io Ma perché? Vengo anch'io Vengo anch'io Vengo anch'io Ma perché? Vengo anch'io 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 Grazie.